cartoni animati per i più piccoli peppa sta dormendo ma è ora di andare a scuola peppa alzati alzati oh com'è difficile alzarsi la mattina ma che cosa è successo intanto a scuola la maestra chiede dov'è peppa e io non lo so signora maestra ma è molto strano peppa a meno che non sia malata viene sempre a scuola e ieri stava benissimo maestra non saprei proprio d'accordo va bene facciamo così a fine lezione andate a vedere a casa che cosa le è successo se per caso è malata a susi e rebecca finita la lezione decidono di andare a vedere che cosa è successo a peppa ma susi tu sai qualcosa e no ieri stava benissimo è davvero strano andiamo a vedere magari non si è svegliata ma tu dici rebecca mi sembra strano le due amiche intanto vanno verso casa di peppa chissà che cosa le è successo prima dormiva così tranquilla ecco che stanno arrivando peppa 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 rispondici dai peppa fatti vedere che cosa è successo perché non sei venuta a scuola peppa peppa ma che strano rebecca non c'è nessuno a casa eh sì è proprio strano oh ma ma chi è ma che cosa sta succedendo oh paura rebecca ho paura ma chi è quello lì io sono lì io sono un nemico di batman un nemico di batman 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 abbiamo bisogno di te ecco che arriva batman lui è sempre pronto quando c'è bisogno di aiuto da un calcione ah batman ti stavo proprio aspettando ehi joker ancora non ti sei stancato di fare questi scherzetti ecco qua te e un altro calcione oh adesso posso liberare queste bambine state calme state calme vi libero subito vi libero subito oh grazie batman oh ecco anche peppa riesce a liberarsi ma guarda dove l'aveva messa l'aveva ricoperta di sabbia povera piccola eccomi eccomi arrivo arrivo oh è arrivata anche la polizia quel joker joker e io siamo nemici da tantissimo tempo oh grazie batman grazie ora devo andare io lo amo ma joker è riuscito a liberarsi non finisce qui batman no no Grazie a tutti.